Ciao amici, ho appena finito l'intervista con Marco Montemani, è andata benissimo, abbiamo riso tantissimo, lui mette sempre l'ospite a suo agio e quindi sono contenta. Sto ricevendo un sacco di email e di richieste di amicizie su Facebook, tra l'altro se non avete visto l'intera intervista vi metto il link giù qui nella descrizione così potete andare e vederla intera. Volevo annunciarvi che visto le tantissime richieste tramite email non riesco a leggerle tutti, ora ho deciso di fare direttamente e automaticamente questo video prima di leggere tutto. Non mi aggiungete per favore su Facebook perché quell'account Facebook con il quale ho fatto l'intervista con Marco è privato solo per la mia famiglia e i miei amici. Ho la pagina pubblica dove seguo i miei studenti che si chiama Learn Arabic with Maha, vi metto tutti i dettagli giù delle cose che vi sto dicendo, quindi potete seguirmi su Facebook nella mia pagina pubblica che si chiama Learn Arabic with Maha, proprio una parola sola. Potete anche seguirmi su Instagram, proprio il mio nome e cognome esattamente così, lì vi potete seguire, posso anche rispondervi e tutto. Nell'email ho ricevuto un sacco di email di richieste di dove faccio queste lezioni, quindi anche il link di dove faccio le lezioni online o individuali o in gruppo le metterò nella box giù, così avete idea di dove contattarmi, di quale corsi offro e del prezzo, della durata, dove le faremo. In più, ho deciso, visto la quantità di persone che hanno commentato, ho avuto ora modo di rileggere anche i commenti, perché in live non puoi leggere nulla, cioè sei live. Ho deciso di aprire un nuovo corso solo per chi parla italiano, quindi per gli italiani, per voi che mi avete chiesto di un corso online, tramite Zoom ho deciso di aprire un corso solo per voi in lingua italiana, perché i miei corsi, come avete ben saputo, sono in inglese. Quindi aprirò uno nuovo per voi, stasera metterò tutti i dettagli, quando inizierà, i prezzi, come accedere, potete iniziare a fare l'application se vi interessa e così vi rispondo tutti. Pensavo che con una video dove mi vedete e ve lo dico chiaramente, lo farò per voi, quindi sto annunciando i nuovi corsi per chi parla italiano. Poi se c'è richiesta e c'è tempo, aprirò altri gruppi. Però per ora mi volevo ringraziare di aver seguito l'intervista, mi è piaciuta tantissimo, sto sempre ridendo. Grazie dei commenti, grazie dell'interesse verso la mia lingua, dei complimenti sulle lezioni che faccio. Allora ci vediamo presto, insha Allah. E ma se l'amo. Bye!